Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, oggi sono qui con un 5 Stars Killers Prediction e questa volta siamo ancora su un giocatore della Serie A, questa volta è un centrocampista della Juventus si tratta del francese Paul Pogba del 1993, giocatore davvero interessantissimo che l'anno scorso è andato vicinissimo a ottenere le 5 stelle ma alla fine è rimasto 4 stelle e nelle sue varie versioni in forma era davvero incredibile per quanto riguarda le sue stats quindi qui vi presento la nuova carta di Paul Pogba che dovrebbe avere 80 in velocità, 85 in tiro, 84 in passaggio, 88 in dribbling e 89 in velocità e io ipotizzo che abbia le 5 stelle mossa abilità perché comunque è un giocatore molto tecnico e che fa ampio uso di finte e skills mentre gioca ed è davvero uno spettacolo quando utilizza questo genere di finte, infatti ha un ottimo dribbling, 88 e soprattutto è spaventoso per la sua agilità nonostante sia alto 1,90 e abbia comunque un dribbling così elevato quindi l'anno prossimo Paul Pogba sarà sicuramente un top player, il prezzo sarà davvero molto elevato ma diventerà molto presto accessibile se si aspetterà un po', comunque sarà davvero molto buono da utilizzare questo giocatore in una squadra eventualmente della serie A magari giocatori skill della serie A tipo Kijna che abbiamo visto nell'episodio precedente quindi secondo me Paul Pogba nel prossimo gioco FIFA 16 avrà le 5 stelle mossa abilità scrivetemi nei commenti se anche secondo voi se le merita questo giocatore francese che è davvero molto interessante, questo gran top player della serie A che vedremo se anche quest'anno riuscirà a mantenere gli standard incredibili di quest'anno nel campionato della serie A detto questo vi invito a lasciare un mi piace, a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore ciao a tutti ragazzi, al prossimo video